Conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione che ci sarà lunedì per le strade di Eboli e per ridare il giusto ruolo all'ospedale di Eboli e anche chiedere alla Regione di valutare l'ipotesi nuovamente dell'ospedale unico della Piana del Sele. Sì, la finalità è proprio questa. Noi abbiamo, non appena è stata pubblicata la delibera del 19 giugno, abbiamo ritenuto che questa programmazione della Regione Campania per quanto riguarda il nuovo piano ospedaliero non potesse essere accettata e accolta. Perché noi abbiamo sempre detto, peraltro avevamo concordato con il direttore generale Sosto di realizzare un ospedale unico della Piana del Sele, della Valle del Sele. Quindi un ospedale unico a Eboli e Battipaglia insieme trovare una soluzione comune e condivisa per poter realizzare finalmente un ospedale di eccellenza. Nel frattempo i due palestri ospedalieri vanno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e poi arrivare finalmente all'ospedale unico. Ne ha bisogno Eboli e Battipaglia, ne hanno bisogno tutti i comuni della Valle del Sele. Questa manifestazione va in questa direzione, cioè quella di dire rivedete questa programmazione, non è possibile realizzare un ospedale di 304 posti a Battipaglia, mantenere 150 posti letto ad Eboli, realizzare poi un grande ospedale a Salerno. Mi pare che questa programmazione, così come ha pure riferito il Presidente della Regione, non sia realizzabile o sostenibile. Ci sarebbe una presa di posizione dei sindaci della Valle del Sele che hanno comunicato poco fa che non hanno intenzione di partecipare a questa manifestazione di protesta per tutelare la sanità qui a Eboli e l'ospedale di Eboli. Cosa ne pensa? Ma io non credo che probabilmente non c'è un problema di fare qualcosa contro qualcuno o contro la Regione o contro il Presidente della Regione. Noi non rispondiamo alle offese che pure sono state pronunciate o a ironie che sono state dette in questi giorni. Non è qualcosa contro qualcuno. Noi abbiamo proposto un documento a cui i sindaci hanno dato la loro adesione. Io li ho telefonati, li ho mandato precedentemente il documento che loro hanno letto e hanno visto. La loro preoccupazione che ci sia uno scontro istituzionale non è questo il problema. Il problema è mettersi intorno a un tavolo insieme alla Regione, insieme al Direttore Generale, insieme ai sindaci del territorio e programmare la sanità sul nostro territorio. Non è una battaglia di campanile, non è una vicenda di scontro istituzionale tra i Comuni e la Regione. Chi ha interpretato in questo modo la malattante vera è che noi non usiamo toni da guerra rispetto a chi ha fatto questa delibera. Noi avevamo programmato e concordato anche con il Direttore Generale una soluzione per quanto riguarda la sanità che interessa l'intero territorio della Valle del Sele, qui nella Piana del Sele. Crediamo che la direzione in cui va quella delibera è diversa rispetto a quella che noi pensavamo e che pensano tutti i sindaci che debbano fare. Io non credo che i sindaci degli altri Comuni non hanno interesse e che si crei un ospedale di questo livello, che ovviamente non va a incidere sugli ospedali già esistenti, come quello di Oliveto Citra, perché bisogna mettere questo ospedale nella rete degli altri due ospedali che sono presenti nel nostro territorio, Oliveto Citra e Roccadaspio, per fare quella sorta di rete di ospedali riuniti. Nel senso che loro, questi due ospedali, faranno così come gli ospedali di Ebole e Battipaglia rimarranno come ospedali di comunità. Cioè ci sarà una rete ospedaliere di base che guarda il territorio e quindi guarda quelle che sono le prestazioni che sono di medicina di base, di primo soccorso, di prima esigenza. E poi ci dovrà essere un ospedale importante che abbia tutte le branche specialistiche che in questo momento non ci sono nel nostro territorio. Molti dei nostri cittadini vanno in altre province o vanno a Napoli per potersi curare. Faccio riferimento, che ne so, all'oncologia, faccio riferimento ad una medicina importante, anche alla chirurgia importante, quando riguarda anche la neurochirurgia, abbiamo un problema di questo tipo. Quindi bisogna fare in modo di salvaguardare le eccellenze che già abbiamo. E questo può avvenire solo in un ospedale attrezzato, moderno, e metterne altre, quelle che mancano. Ora non c'è nessuno scontro istituzionale, non ci vuole essere nessuna guerra tra regione e comuni. C'è semplicemente la necessità di chiedere alla regione Campania di fare una programmazione in questo senso. Riteniamo che questa sia una proposta ragionevole, che tutti i sindaci possano, che hanno concordato, che hanno anche condiviso. Forse evidentemente loro hanno preso questa manifestazione come qualcosa che vuole alzare delle barricate o uno scontro istituzionale. Questo non è, è semplicemente una risposta programmatica, di una scelta programmatica, rispetto ad una che noi riteniamo non vada nella direzione che tutti i sindaci abbiamo auspicato in quel documento.